Il Gran Premio Nuvolari torna ad Arezzo sabato alle 15. La prima vettura partecipante transiterà in Piazza Grande nel corso della seconda tappa della prestigiosa manifestazione supportata dal club Saracino di Arezzo. Ospite d'onore di questa edizione la Maserati 6C34 che Nuvolari portò al debutto nel Gran Premio d'Italia del settembre 34 classificandosi quinto per poi a giudicarsi i circuiti di Modena e Napoli il mese successivo. Ma il capolavoro di Ernesto Maserati non sarà certo l'unica protagonista del Gran Premio Nuvolari 2018. Da Piazza Sordello a Mantova, venerdì partiranno alla volta di Rimini e poi sabato per Corbino e Arezzo ben 315 gioielli d'epoca di cui circa 80 risalenti all'anteguerra provenienti da ben 20 nazioni. 43 i marchi delle case automobilistiche presenti al Via, dagli italiani Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Ferrari, all'inglese Triumph, Jaguar, Aston Martin e Bentley, dalle statunitensi Ford, Buick e Chrysler, alle tedesche Auto Union, Mercedes, BMW, Porsche, fino alle francesi firmate Ettore Bugatti, in pratica l'eccellenza della produzione mondiale dell'automobile. Un'autentica macchina del tempo che farà sfilare auto per regolamento prodotte dal 1919 al 1972 come la Bentley Le Mans Touré 3.0 del 1923 fino alla ben più recente Alfa Romeo Duetto Spider del 1971, di premissimo valore anche a livello dei gentleman drivers partecipanti. Alla manifestazione ci saranno anche i soci Aretini Loriano Salvi e Anna Maria Maccioni su una MGA del 1956 con il numero 189. Grazie a tutti. Grazie a tutti.